A seguito dei problemi che sono sorti in relazione ai rifiuti nella piazza della stazione, questa mattina c'è stato l'incontro con i rappresentanti della DOCS e l'alterna e l'assessore Campania. Sì, anche il nostro ufficio igiene è stato presente in questo incontro dove abbiamo affrontato il problema di questa piazza, quella della stazione, dove si verificano dei comportamenti da parte di persone non pienamente reputate civili. Quindi l'amministrazione e la DOCS stanno studiando e stanno portando avanti un programma di intervento per rimediare a queste problematiche riguardanti principalmente deiezioni comunque animali o umane in quella zona lì. Quindi si è arrivato ad un primo intervento riferito all'installazione di bagni chimici sicuramente per rimediare al problema di queste deiezioni e in più una sistemazione più opportuna delle isole ecologiche che abbiamo in città, compresa naturalmente questa di Piazza Cesare Battisti e Via Carso che sono quelle che danno più problematiche in città.